Ci mancava il tifone a peggiorare la situazione. Anche in Myanmar la tempesta tropicale Yagi sta facendo disastri e vittime. Almeno 11 morti e decine di migliaia di sfollati, che si aggiungono alle decine di migliaia di uccisi, feriti, arrestati e quasi 3 milioni di sfollati interni della guerra civile che si trascina dal 1 febbraio di tre anni fa, quando con un colpo di Stato la giunta militare destituiva il governo di Aung San Suu Kyi. Centinaia di migliaia di persone erano scese in strada a protestare e hanno proseguito per più di un anno. Una rivolta popolare pacifica soffocata nel sangue dai soldati del generale Min Aung Laiing, che però negli ultimi tempi hanno dovuto fare i conti con tre potenti milizie etniche riunite nella Brotherhood Alliance, che opera negli stati di Rakhine, Shan e Chin. Il Myanmar è una federazione. I guerriglieri hanno conquistato città e fatto prigionieri molti soldati del Tatmado, che reagisce con bombardamenti sui villaggi, blocco degli aiuti medici e alimentari, arresti indiscriminati e stupri. La cosiddetta strategia dei quattro tagli, che l'esercito birmano usava già negli anni Sessanta contro i comunisti e la minoranza etnica dei Karen, mentre i Rohingya, pochi giorni fa, hanno commemorato il settimo anniversario del loro esodo in Bangladesh.